Tutti i pezzi del puzzle si stanno componendo e presto, entro la fine dell'anno, i carabinieri di Omenia avranno un nuovo ricovero per la loro imbarcazione, dopo che la darsena precedente alla ex canottieri è stata inglobata nel progetto di recupero e sistemazione dell'area, peraltro ormai prossimo alla conclusione con l'inaugurazione del ristorante prevista per il prossimo 18 di luglio. L'iter burocratico per il nuovo spazio dedicato all'imbarcazione dell'arma è giunto al termine. Sono infatti arrivati in nulla osta per la concessione demaniale e per l'autorizzazione paesaggistica. Il nuovo ricovero sarà realizzato davanti all'ospedale nella zona a lago a fianco della pontile meno centrale. Ora, spiega il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici Stefano Strada, stiamo predisponendo il bando per i lavori che costeranno circa 58 mila euro e che confidiamo di terminare entro la fine dell'anno. C'è stato qualche ritardo rispetto ai tempi iniziali, ma dovuto a cavigli di natura burocratica. Siamo soddisfatti molto per il mantenimento a Omegna di un servizio davvero importante, perché l'appattugliamento e la salvaguardia della sicurezza sul lago sono aspetti chiavi e sui quali contiamo come amministrazione.